Ciao e benvenuto, questo è NoFlyZone, è un brano chiaramente ispirato alle sonorità metal e prog moderne. All'interno di questo brano ho utilizzato numerose tecniche solistiche, cercherò ora di darti qualche consiglio per riuscire a eseguirle e praticarle al meglio. Parlando del legato e del tapping, presta attenzione al rilassamento degli arti, valuta esercizi mirati allo sviluppo e rinforzo dell'emmer on e del pull off. NoFlyZone